Il bando è da rifare ma lei in conferenza stampa ha avvertito, non finisce qui e lunedì andrà anche dal prefetto, perché? Perché c'è stata un'ingerenza nelle procedure di gara che secondo me ha dello scandaloso. I consiglieri di minoranza hanno firmato una diffida all'amministrazione a non procedere alla giudicazione, questa è il giorno 8, quindi venerdì, e l'hanno inviata oltre a me al segretario, all'ANAC, al Ministero degli Interni, l'hanno inviata anche ai membri della commissione che doveva procedere all'aggiudicazione o meno della gara. E da quello che ho capito hanno cercato di fare in modo che questa sorta di intimidazione, non ho problemi a definirla tale, arrivasse prima della fine delle procedure. È evidente quindi che io avrò problemi a rimettere in piedi, a rimettere insieme una nuova commissione per il prossimo bando, quindi devo andare a chiedere anche al prefetto come mi devo muovere, perché ai sensi del 142, il testo unico degli antilocali, per un fatto di questa gravità c'è anche la possibilità di provvedere alla sospensione dei consiglieri comunali. Arriverà a presentare questa richiesta? Sì, assolutamente. Perché io non riesco a capire come persone che sono in politica da tanti anni possano fare un atto di ingerenza nell'attività amministrativa e gestionale di questa portata, arrivare ad intimidire i componenti di una commissione che sono dei normalissimi funzionari del comune. È qualcosa che non sta né in cielo né in terra, ma fa il paio con il viaggio della speranza ad Enel per chiedere che l'ente energetico non firmasse la modifica dell'accordo 2008 con il comune e di cui dovranno rendere conto, perché io voglio capire e voglio sapere perché un gruppo di parlamentari del PD e i consiglieri di minoranza sono andati a chiedere ad una controparte del comune di non firmare un accordo con il comune. A che pro? Che cosa gliene viene? Alla città se l'accordo va in porto gliene viene, perché giustamente viene ottemperato, onorato un contratto. Se non viene onorato un contratto ci possono essere problemi, quindi che cosa gliene viene? Questo lo dovranno spiegare. Teme che i membri della commissione siano stati influenzati da questo documento presentato dalla minoranza, considerando però che sono stati chiesti dei documenti integrativi alla società che si è presentata e questi documenti non sono stati presentati, quindi è quello il motivo. Esatto, i motivi per la nuova giudicazione non sono assolutamente quelli riportati da alcuni giornali che parlavano di mancanza di soci bancari o assicurativi, ma perché c'era stato un errore nella produzione della documentazione, in particolare l'autocertificazione di alcuni rappresentanti legali della società e quindi non si è proceduto alla giudicazione per questo motivo. Ma l'intimidazione che hanno subito i dipendenti comunali è evidente, è evidente. Ripeto, voci di corridoio mi riportano che è stato tentato di, poi non so se ci sono riusciti francamente, non ne ho idea, di notificare lo stesso venerdì in cui è stata protocollata questa richiesta ai membri della Commissione, che ovviamente poi ne hanno risentito di un clima obiettivamente difficile, quindi che la cosa non abbia avuto la minima influenza, io a questo punto non la posso escludere.